L'anno prossimo vedrete sulle spiagge con grande piacere questa domanda che noi indossiamo a livello di riposo per un allenatore della Nazionale, questo è quello che indossiamo e speriamo che sia un'inaugurante veramente con tutto il cuore per la tua gentilezza e per la tua politica. Il International Beach Soccer è per questo primo trofeo cittadiega, è stato lì io il primo ed è con grande piacere e con entusiasmo che abbiamo ascolto questa proposta che arriva da chi ha sostanzialmente fondato l'IBS e con 20 anni di attività ma soprattutto un grande campione di calcio con la maglia di Roma, Inter, la Fiorentina, Torino, Verona, Genoa, lo studetto con la Roma, una Coppa UEFA con l'Inter e una grande passione, una grande generosità che ha potuto riscontrare che in questi mesi in cui siamo in contatto per questa collaborazione che poi è arrivata sostanzialmente al risultato con l'accordo che è stato sottoscritto, una delibera che abbiamo assunto come giunta comunale già dal novembre dello scorso anno e che poi ci ha portato ad un accordo con la Fondazione Reghero che abbiamo demandato per la coorganizzazione dell'evento. Edizio Iorio, presidente dell'Italia Beach Soccer ad Alghero, finalmente un grande evento legato al pallone in spiaggia. Sono molto contento, sono contentissimo perché Alghero non la conoscevo, mi sono rimasto ammaliato, affascinato, bellissima. Sono convinto che sarà un grandissimo evento e io farò di tutto per arricchirlo nel miglior modo possibile. Ho conosciuto delle persone splendide e non avevo il dubbio perché i Sardi sono veramente bellissima gente. Ripeto ancora, sono molto 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 contento. Ci saranno quattro nazionali prestigiosissime, Italia, Brasile, Francia e Svizzera. Sarà un torneo agguerrito, molto combattuto ma molto piacevole. Chiunque segue la tua televisione gli consiglio di venirla a venire perché saranno tre giorni di puro divertimento. Tre giorni nel lungo weekend che da giugno porta a luglio con grandi campioni. Assolutamente sì, ci saranno grandissimi campioni sia in campo che fuori. Per cui cercherò di arricchire proprio queste tre giorni nel minore modo possibile per poter dare la giusta gratificazione alla città di Alghero, alla gente di Alghero che mi ha accolto in maniera splendida sin dal primo secondo che sono atterrato. E poi la garanzia di Maurizio Iorio. Uno scudetto alla corte del Barone Lido, una finale di Coppa Italia con il Verona, quarto posto all'Olimpiadi di Los Angeles con gli azzurri e gol ovunque da Foggia al genere dopo i bagnoli. Grazie, mi fa piacere, i tuoi ricordi mi hanno fatto venire la pelle d'oca. È stato un bellissimo periodo della mia vita di cui io ne sono orgoglioso logicamente. Dopo ne è nato un altro che è il beat soccer che mi ha riempito altrettanto di grandi soddisfazioni e mi ha riempito al cuore. E ripeto ancora una volta, sono veramente fiero di essere qua ad Alghero senza fare la falsa retorica.